A chi vogliamo rivolgerla? La domanda! Non c'è bisogno di andare troppo lontano, oggi se ne trova facilmente, basta chiamare. C'era tra il bene e il così un intervallo più lungo, un accento su A, uno stiramento sul bene e una sospensione prima del così. A chi vogliamo rivolgerla? La domanda!